L'emergenza di fiuti imperversa a Napoli annulla. Al momento sono valse le disposizioni date dalla nuova giunta comunale e dal vice sindaco sodano che prevede tuttavia a partire da settembre una intensificazione della raccolta differenziata. L'altro giorno intanto vi è stato un confronto con le associazioni ambientaliste ed oggi invece dalla giunta provinciale arriva la notizia di far ricorso al TAR contro l'ordinanza del sindaco di Caivano che aveva bloccato il sito di trasferenza che era stato individuato. Il sito di Caivano aveva detto il presidente Cesaro insieme a quello di Acerra saranno utilizzati come siti di trasferenza temporanea, sono indispensabili per risolvere la crisi di queste ore. Ad Acerra ieri bloccati i binari della ferrovia e tante proteste in strada. Stesso scenario si è verificato anche nella città di Caivano dove siamo tornati questa mattina per ascoltare dalle parole del sindaco Falco quali le azioni che verranno intraprese dopo che per l'appunto il TAR ha accolto il ricorso da parte del presidente Cesaro che quest'oggi intanto ha deciso di incontrare il premier Berlusconi per quanto riguarda il decreto da attuare in provincia e dunque venire incontro a quella che ormai è divenuta una situazione insostenibile. Io penso che sicuramente si continuerà quella protesta che è stata iniziata l'altro giorno perché tutti i cittadini e tutti gli amministratori sono per la difesa del territorio e per i figli, i nostri figli. Ecco intanto Cesaro, il presidente della provincia si è mosso, ha fatto comunque ricorso al TAR contro quella che invece era stata la sua decisione. E penso che pochi minuti fa ci è stato anche detto che forse è stata sospesa la nostra ordinanza per cui quella di Cesaro è stata accettata e ci potremo trovare da pochi minuti ad ora di nuovo con i camion che dovrebbero scaricare in una nostra società. Quale sarà la vostra prossima azione? Stiamo già preparando un'altra azione perché noi in tutti i modi, in qualsiasi cosa dobbiamo fare basta che il suo territorio sarà difeso e protetto per tutta la città. C'erano state anche in passato delle libere che in qualche modo avevano vietato l'ingresso ai camion, agli autocompattatori? Ricordiamo tra l'altro quella del sindaco Langelli. Ma noi penso che, conoscete già il nostro territorio che è un territorio già martoriato, abbiamo uno stir, abbiamo ecoballe infinite che non vengono tolte e poi abbiamo da questo stile, l'altro giorno abbiamo fatto notifica alla provincia e all'Igiene e all'ambiente che su questi camion determinavano pergolate perché volevamo sospendere la discarica e quindi potremmo ottenere ancora altre posizioni per bloccare questa ordinanza del Presidente Cesario. Sulla questione abbiamo ascoltato anche l'ex sindaco della città di Caivano, Papaccioli, che era già intervenuto negli anni scorsi con delle ordinanze per cercare di ovviare la situazione dei rifiuti e soprattutto difendere il territorio caivanese. Si naviga a vista, per cui ogni luogo dove è possibile mettere un po' di spazzatura lo si va ad occupare. Ma la cosa più grave è che non c'è una visione d'insieme del problema. Per il periodo in cui ho fatto da sindaco abbiamo proposto soluzioni, infatti abbiamo ipotizzato la localizzazione di un sito di compostaggio all'interno del laboratorio IGICA e soprattutto abbiamo liberato di circa 80.000 tonnellate di spazzatura che impropriamente occupavano questo sito di compostaggio. La IGICA, che è una società che a mio avviso in quanto pubblica può rappresentare un fiore all'occhiello, benché io l'abbia ereditata pressoché fallita, nella IGICA e nella mente avevo una visione tale per cui una società pubblica, lo dico io che sono un liberale, doveva in un settore fortemente inquinato come quello della NU dalla criminalità, doveva essere un fiore all'occhiello e un'opportunità sia per l'ente sia per la popolazione. E mi spiego, con l'impianto di compostaggio aerobico-aneerobico avremmo prodotto energia elettrica da vendere che sarebbe andata a ristorare della Tarsu i nostri cittadini.